Buongiorno a tutti voi e bentornati. In questo nostro nuovo video vi presentiamo una serie di contafili in plastica, in metallo, contafili piccoli, contafili più grandi, contafili con misurazione, contafili con luce. Il contafili è una delle poche lenti che ha un nome specifico. Contafili è sempre stato usato in passato ed è tuttora utilizzato nel settore tessile per misurare in un centimetro i fili della trama. Questa tecnica, questo processo si chiama riduzione. I contafili trovano comunque impiego in tanti settori. Nel settore grafico, per guardare carta, per guardare il puntino della stampa, per guardare i crocini. E' utilizzato anche per osservare francobolli, per guardare monete. E' utilizzato anche per ispezioni quando devono controllare carte di identità, verificare banconote e grafico, per guardare i contafili con strutture in metallo. Abbiamo contafili con strutture in metallo. lenti in plastica e lenti in plastica. Se vogliamo un articolo di qualità è meglio preferire un contafili in metallo con lenti in vetro. Altrimenti se preferiamo un prodotto economico si sceglierà un contafili in plastica. Qui vediamo come vengono piegati i contafili. Sono facili da trasportare e sono molto compatti. vediamo un contafili con la sua custodia inserito nella custodia. Ecco vediamo come viene piegato un contafili per essere riposto, per essere messo via. il contafili può essere utilizzato anche nelle scienze naturali, per osservare fiori, insetti, piante. il contafili qui vediamo un contafili utilizzato per osservare del tessuto super gioco Qui vediamo un contafili utilizzato per osservare dei francobolli, comunque per guardare degli stampati, quindi fogli, carta, qui invece vediamo un contafili per osservare del metallo, quindi può essere usato anche per guardare serigrafie, punzoni, osservare monete. Grazie per l'attenzione e vi aspettiamo per il prossimo nostro video. A presto!